Ciao amici di LaserJRBL, qui con me ho la RAI 5 più lunga. Il più interessante di questo ingegnero è l'abilità di usare in modo offline. Preparare il vostro lavoro con LaserJRBL e salvare G-code per microSD card. Preparare G-code in Rai 5 e lavorare il lavoro senza PC. Questo è davvero bello! Puoi vedere la RAI 5 lavorando questo lavoro lungo senza necessità di PC. Questo è molto bello perché ti permette di lasciare il tuo computer libero per altri lavori, per guardare un film o semplicemente per l'acqua. Si riuscirà anche tutti i problemi di interruzione che potrebbe accorre durante il stream di G-code dal PC per l'acqua. La Rai 5 è molto reattiva e ci servono la funzione principale, iniziare, 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 iniziare e iniziare. Guardate che buono risultato! Ovviamente, la RAI 5 può anche essere collegata e controllata direttamente dal PC con LaserJRBL o con altri programmi. Come in questo testo, in cui andremo a controllare la performance di corte. E' un testo che ho standardizzato e che ho portato su tutte le macchine che ho testato. E' un testo di corte di 5 mm popolare di Playwood, 13 mm in diametro, massimo di potenza e 500 mm per minuto di speed, molti passi. massimo. In miei video, potete trovare questo test fatto su altri modelli e altre brand. Il risultato di miglioramento per una macchina equipata con un laser di potenza 5.5 mm di potenza optica è tra 60 e 80 secondi, ma questo laser può passare questo test in meno di 60 secondi. a fine, voglio mostrare una misura di potenza elettrica e optica di questo modello. La carta tecnica dice 5.5 mm di potenza optica e la mia misura mostre che questo modello è arrivato a 5.8 W. La mia opinione è che la RAI 5 è una buona macchina, e se vuoi comprare questo test, suggerisco che ti prendi avvantaggio del codice di desconto che ha stato riservato per l'User LaserJRBL che ti permette di comprare il codice di 60 dollari. Potete trovare il link e il codice di desconto nella descrizione video. Grazie per aver guardato.